Hoi cari di tutti, io sono Genius29 E ci sono anch'io, Stone Hoi cari di tutti, io sono Genius29 Siamo qui in questo nuovo video E come potete vedere sono su Counter Strike Global Offensive Un FPS che ho già portato sul canale Due o tre volte Ma a cui non gioco praticamente mai Perché io negli FPS faccio abbastanza cagare Questa qua è la modalità corsa alle armi E oddio ho ammazzato una persona totalmente random Che mi stava praticamente zando Ma alla fine sono riuscito ad ucciderlo E mi è venuto un nero da dietro a infilzarmi col coltello Bella merda Comunque l'obiettivo di questa modalità è ammazzare tutti quanti E ogni kill, due kill che si fanno Non so quante sono Ci da l'arma successiva Bisogna arrivare al primo che arriva al coltello d'oro Che si ottiene dopo le pistole E qua io spawno davanti ai nemici Incredibile Ce ne sono due qui E mi ammazzano subito La cosa che odio di più Negli FPS Questa Ti fai 350.000 colpi all'avversario Non muore Lui te ne fa due E tac Sei belle che è morto Ste cose proprio non le sopporto negli FPS Yeah Tanto saliamo su questa qua Wow L'ho ucciso però non mi ha dato niente Perché bisogna fare due kill mi sa per avere la prossima arma E mi ammazzano sempre quel nero Smettila Ma che cazzo l'arma c'ha? Te muori Che cazzo fai là su? E mi ammazza quello laggiù Ancora tu Larry Ma poi non c'hanno manco giubbotti antiproiettili Mi ammazzano E quelli sono i terroristi A me di terroristico questi qua non sembra ci abbiano niente eh Oh Ho ammazzato un altro Sono livello 2 Madonna troppi Devo arrivare a 16 Sono a livello 2 Una volta io riuscivo pure a vincere sto gioco Questa corsa alle armi Però adesso non ci riesco E intanto quello lì mi ha ammazzato Mentre è stato ucciso da un altro mio compagno E dove? Cazzo Dove mi chiedi? Dove siete appostati? Che non vi vedo mai Vabbè Un altro che mi ammazza mentre muore Ciao cazzo Dalle lettere Posso fare il postino invece di ammazzare la gente? Tanto non ce la faccio Ma fammi passare da questa strada chiusa Me ne voglio andare Dove cazzo? Dov'è? 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 Non lo vedo manco dalla foto Dove cazzo è? È invisibile Usa le hack Che cazzo è? Mi ammazzano dal nulla questi E tu Che cazzo fai? Ma basta Ma basta Quello c'ha già la cappa C'ho il mech 10 Io voglio un big mech Non il mech 10 E va Ma perché mi ammazza sempre questo? Tu colpi mi ammazzano Vado di coltello Adesso lo ammazzo così Cosa ho toccato un compagno? Gli sto ammazzando a coltellate Vi ammazzo tutti quanti a coltellate Eh Basta Spartacus Ma quanto cinerdate su sto giochetto Dove sta? Via! Sì! Ho ammazzato qualcuno Ho ammazzato quello che mi ammazza sempre Sono felice di me stesso Adesso c'ho il cecchino Quindi me la starò qui a camperare Sì ma se mi ammazzo da dietro però Che palle È per questo con gli FPS Non senti mai quando arriva da dietro Ehi Perché non è morto? Che cazzo è? Perché non vedo niente? Ah ok Sono risponato Perché non è morto? E mi ammazza quell'altro di là Ma perché? Riesco a beccare in testa quello? Qualcuno? Riesco a beccare qualcuno? O forse no? No A quanto pare non riesco Perché il mirino va sempre in alto? C'è il rinculo Ho ammazzato qualcuno forse Ho sentito un drink No perché me l'avete ammazzato? Dai non voglio avere sto cecchino Il cecchino non lo so usare Si vede benissimo come non lo so usare Oh che bello Un cesso Ehi Che cazzo fai tu? Risali? Come mi hai visto? Ma Sto Larry mi sta dominando seriamente Tutte lui me le fa le kill Lui e Spartacus Sono gli unici due Cioè gli unici due che giocano nell'altra squadra Sono praticamente questo Si vabbè Larry ha raggiunto il livello del coltello dorato Ormai probabilmente tutte le kill se le fatte con me Dalla kill finale falla su di me Larry Tanto ormai abbiamo capito che ce l'hai a morte con me Abbiamo capito che mi vuoi morto A parte che ho già morto 300 Quanta volte? Ho ammazzato uno a caso Però poi DJ Neism ha ammazzato Wow Attenzione alla fine ha vinto Spartacus Però è arrivato lui primo E io sono tipo Quanti punti ho fatto? Boh 15 Ho fatto un assist 7 kill e 25 morti Troppe troppe Vabbè facciamo un'altra partita Magari andiamo al lago Vuotano il lago lo vuoto anch'io Perché non le conosco le mappe Mappa lei Clago Ed è abbastanza grande questa mappa Devo dire la verità Mi ci potrei perdere E mi sa tanto che farò più schifo di prima Però noi siamo ottimisti E quindi diciamo che dobbiamo vincere la sta partita E poi mi dite Perché non porto gli FPS? In realtà non me li dice nessuno Però proprio una cosa che mi dico io Perché non porti gli FPS? Genius Perché fai cacare Ecco perché Non che tu sia bravissimo negli altri giochi Però Almeno qualcosa negli altri giochi la fai Stavolta me ne vado donati terroristi Perché sono meno Vado sempre nella parte dove c'è meno gente E salve È già iniziata la partita Senza manco avvisarvi Ammazza il polpo Ma ammazza Io mi butto nell'acqua Ma che cazzo? Questa dovrebbe essere acqua? Sono Gesù Sono Gesù Riesco a camminare sull'acqua Cazzo è che mi sta sparando Da dù Ah ma Già che io adesso sono un terrorista E sono contro gli antiterroristi Forse te l'hai dimenticato Genius Vero? Mi sa tanto di sì Si può andare In mezzo al lago Perché in realtà qua è in bassa L'acqua E di là che diventa profonda Non ci si può andare Sì e l'Henry sta a fare già le uccisioni di fila E ne ha fatte sei di fila Madonna E un'altra volta sto polpo C'è pure un trofeo d'oro Ha vinto Sì ciao Questa partita è veramente Non farò un cazzo Anzi sai che Il che ti dico io Io me ne vado sul trampolino A fare tuffi Posso fare tuffi? Da fatemi fare tuffi Yeee Aia Mi sono sfraccellato le gambe È vero che l'acqua è bassa Perché mettete il trampolino Se l'acqua è bassa? Siete stronzi Ma io adesso Me ne salgo Qua sopra al molo Posso sentire sul molo? Oh che bravo E me ne vado sul motoscafo Dai viaggiamo Verso in là Muoviti molo scafo Accennati Se no ti buco tutto eh Ti buco tutto quanto Ti buco Hai capito Motoscafo Aaaaa Ok Direi che ho già fatto Fin troppe minchia Adesso proviamo a fare qualche kill Dato che in queste due partite Previamente è stato successo In una casetta Su un trampolino Qua magari Quasi quasi mi rubo pure il triciclo Va Triciclo Non posso Posso bruciarlo Posso farlo esplodere Mi sa di no Oh C'è proprio una scopa Vabbè mettiamoci a spazientare Tutto a sporco qua dentro Poi ci andiamo via con questa macchina Posso Non ho proposto Spaccare il vetro Che non si rompe Madonna Il vetro antiproiettile Ma 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 Si fa Si fa a fare così No Seriamente Manca una kill Ho fatto in sta partita Ma io me ne vado Seriamente Sto facendo No basta 110 colpi 110 danni con un colpo Si Ah già che A parte mi confondo Penso sempre di ammazzare i terroristi E non gli antiterroristi E Gumball mi sta ammazzando Con la EVP Verme di vino Minchia bel nome Comunque Ormai siamo morti Quante kill Zero punti Ma perché Il polpo ancora No basta Veramente Io quitto Io quitto Basta Si Voglio smettere di giocare Ok Comunque per questo video è tutto Se vi piace o vi piace Commentate e sconfano Ascritti Mi ti piace la pagina facebook Può passare il testo in descrizione E anche da instagram E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao ragazzi